Aurini, l'allenatore del Brescia. Allora, mister, un sconfitto oggi 2-0, troppo forte l'Atalanta o voi potevate fare meglio? Ma no, la partita è stata una bella partita, insomma, equilibrata. Al primo tempo sicuramente qualcosina di più loro, al secondo tempo qualcosa in più noi. Partita ben giocata, insomma, questi sono i valori delle squadre in campo. Noi, naturalmente, non puntavamo a nessun obiettivo, loro le motivazioni in queste situazioni fanno un po' la differenza, però abbiamo giocato, secondo me, una buona partita, mettendo in difficoltà fino in fondo una squadra molto forte e giocandocela fino alla fine. Sui due gol presi, molto bello il primo, secondo, magari qualcosa da dire ai suoi difensori? Sì, abbiamo sbagliato un movimento in fase difensiva, palla scoperta, non si è scappato via e abbiamo preso il secondo gol. Naturalmente, la partita è stata condizionata da questo errore, perché se andavamo a riposo col punteggio di 1-0, probabilmente al secondo tempo sarebbe stata una partita diversa, anche perché abbiamo avuto tante occasioni per poter andare al gol, insomma, abbiamo avuto tanti uno contro uno, siamo entrati in aria molte volte, c'è stato probabilmente un fallo da rigore alla fine, non fischiato, comunque sono contento perché la squadra ha giocato al calcio, ha giocato sempre palla a terra, non l'ha buttata mai via, si è proposta sempre, insomma, con gli esterni bassi, quindi sono contento per la prestazione. Contento della gara di oggi, contento di come è la classifica, contento della stagione? Ma sì, noi sapevamo che quest'anno dopo un'annata da incorniciare dell'anno scorso, quest'anno pagavamo un po' d'azio, c'è stato un ricambio, dovevamo gioco forza pagare qualcosa, il giorno di andata abbiamo fatto molto bene, il giorno di ritorno abbiamo perso qualche partita di troppo, però tutto sommato ci aspettavamo questo tipo di annata, quindi abbiamo lavorato per il futuro e l'anno prossimo probabilmente avremo una primavera più competitiva e qualche giocatore in più che è cresciuto, giochiamo con 2-3, 94, addirittura un 95, abbiamo tanti 93 in campo, quindi insomma quest'anno ci ha servito come anno di transizione per poter preparare bene quella dell'anno prossimo. Chi vedrà ancora Saurini sulla panchina primavera del Brescia? Adesso vedremo, credo di sì, però non si sa mai, vediamo cosa ci si prospetta, io qui naturalmente mi trovo molto bene, questo è il mio mondo, questi ragazzi crescono a vista d'occhio, quindi non avrei alcun problema a restare, però non si sa mai, magari alla fine arriva qualche proposta allettante e la valuteremo.